E restiamo sulla crisi e sulla drammaticità con cui la vivono tante persone, 8 milioni sono i poveri in Italia, tanti inestima l'Istat nel suo annuario statistico, tanti poveri eppure paradossalmente tanti sprechi, si produce più cibo di quello necessario, tanto che il 40% viene gettato via, ma il paradosso è che nel mondo molte persone soffrono di malnutrizione, mentre un miliardo di individui soffrono di patologie da sovrabbondanza di cibo. La sfida dunque è azzerare gli sprechi e riequilibrare l'accesso alle risorse, ma come? Educando al valore del cibo partendo dai più giovani. E' questa la ricetta di Slow Food International. Lo spreco di cibo nel mondo è probabilmente uno dei più grandi paradossi dell'attuale sistema alimentare. La sfida è moderare i nostri consumi e produrre meglio. Dobbiamo insomma cercare di fare in modo che tutti abbiamo accesso ad un cibo buono, pulito e giusto. Una linea che evidentemente non conveniva alla ditta di Napoli con sedi all'Agronegro e a Solofra a giudicataria di appalti in tutta la campagna. E poi rivelatasi, secondo la procura di Napoli, un'associazione a delinquere è finita nel mirino della magistratura con 7 arresti e 45 indagati tra politici napolitani, avellinesi e salernitani, medici, funzionari pubblici delle Asle. I reati sono corruzione, turbata libertà degli incanti, truffa, frode in pubbliche forniture, falso, tutti riferiti al settore della gestione delle mense scolastiche ed ospedaliere. Vittime tutte le persone, grandi e piccole, che mangiano alle mense pubbliche. Sono 245 mila le persone in Campania che durante l'anno pranzano in mensa, dipendenti pubblici, operai, professionisti, ma anche tanti piccoli studenti. Una vergogna che dovrebbe essere pagata con la gogna mediatica della ditta e delle persone che verranno condannate. E speriamo che la magistratura non ci faccia aspettare i soliti tempi biblici per arrivare all'accertamento dei fatti e dalla condanna. Il ruolo del consumatore è dunque cruciale. La grande distribuzione organizzata deve iniziare a ripensare il modo in cui si approvvigiona, cercando di incrementare l'utilizzo di risorse locali, ma ricordiamoci sempre che siamo noi a scegliere cosa la distribuzione ci offrirà. Siamo noi ad influenzare le politiche di acquisto e quindi di spreco dei supermercati. Noi consumatori dobbiamo diventare coproduttori e scegliere cosa è meglio per noi e per l'ambiente.